Buon pomeriggio dalle telegiornali, in primo piano ovviamente il Green Pass o meglio il Super Green Pass come viene chiamato diventa obbligatorio dalle 15 ottobre per tutti i lavoratori pubblici e privati come del resto era già ampiamente previsto proprio alla vigilia delle consiglie dei ministri ma vediamo esattamente cosa comporta. Il governo ha deciso il Green Pass diventa obbligatorio dal 15 ottobre 2021 per tutti i lavoratori pubblici e privati via libera da parte del consiglio dei ministri con voto unanime al decreto covid che introduce le novità per quel che riguarda l'obbligo di certificato verde questo decreto è per continuare ad aprire avrebbe detto il presidente del consiglio Mario Draghi nel consiglio dei ministri scatta subito la sospensione dal lavoro per i lavoratori privati mentre per i dipendenti pubblici vale dopo cinque giorni i lavoratori privati se comunicano di non essere in possesso della certificazione verde o qualora risultino privi al momento dell'accesso al luogo di lavoro sono sospesi dalla prestazione lavorativa al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e in ogni caso senza conseguenze disciplinarie con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento l'estensione dell'obbligo verrà applicata anche per gli eletti di camera e senato con questo decreto estendiamo a partire dal 15 ottobre l'utilizzo delle green pass a tutto il mondo del lavoro pubblico e privato ha detto il ministro della salute Roberto Speranza in conferenza stampa a palazzo chigi in primo luogo per rendere questi luoghi più sicuri perché il green pass è uno strumento di libertà e poi per rendere più forte la campagna di vaccinazione il ministro ha aggiunto che siamo convinti che questo decreto possa contribuire a dare un'ulteriore spinta a questa fase di ripartenza per quanto riguarda l'estensione della validità del tampone il ministro Speranza ha chiarito che il governo ha già dato parere favorevole a un emendamento al decreto in conversione alla camera sul green pass a un allargamento a 72 ore della vigenza del green pass attraverso il modello dei test molecolari dunque resta di 48 ore la validità del test antigenico avrò modo comunque di approfondire nelle prossime ore tutti i vari aspetti che riguardano appunto il super green pass nel frattempo andiamo sul nostro giornale online live e breccia.tv e vediamo invece i dati relativi alla situazione epidemiologica nella nostra provincia e regione 60 casi covid nel Bresciano nelle ultime 24 ore 573 in Lombardia scende il tasso di contagiosità lo vedete 1 per cento vuol dire che su 52 mila 296 tamponi processati 573 sono stati i nuovi positivi Milano e provincia ovviamente segnano il maggior numero di nuovi casi 175 60 la provincia di Brescia 56 Bergamo 67 Monza Brianza le altre a Varese 61 le altre decisamente più distanziate due pazienti meno in terapia intensiva siamo a 57 in tutta la regione 437 ricoverati nei reparti ospedalieri due persone in più in area medica purtroppo il numero alto dei decessi nella giornata di ieri in lombardia uno dei giorni in cui si registra il maggiore numero di decessi 9 nessuno però al momento viene segnalato nella nostra provincia voltiamo pagina vediamo alla cronaca e parliamo di quanto avvenuto ieri mattina in via folonare l'accoltellamento di un magrebino con un macete e la polizia sta ancora attivamente cercando il suo aggressore mattinata movimentata in centro a Brescia dove attorno alle 9 si è verificata una lite con accoltellamento il tutto è avvenuto in via folonari e più precisamente sulla scalinata che all'esterno conduce dalla strada al centro commerciale frecciarossa le informazioni che arrivano dal luogo dell'aggressione sono frammentari e non si sarebbe a conoscenza dell'identità dell'aggressore ma pare che tutto sia partito da una lite le cui ragioni non sono attualmente note di certo c'è che uno dei due contendenti ha estratto un'arma bianca e ha colpito ripetutamente il suo avversario procurandogli ferite gravi stando alle voci in circolazione si ipotizza l'uso di un'arma dalle dimensioni importanti addirittura un macete sul posto sono intervenuti quindi i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure alla vittima ventottenne che poi è stata trasportata in codice giallo all'ospedale civile per i rilievi e le indagini sono invece stati presenti gli equipaggi della polizia di stato c'è un altro argomento che sta tenendo banco a livello nazionale ma che ovviamente ci interessa molto da vicino perché ci mette le mani in tasca ed è il caro bollette sapete che il ministro cingolani nelle scorse settimane aveva lanciato l'allarme attenzione perché è in arrivo a ottobre un aumento delle bollette dell'energia elettrica del 40 per cento da qui insomma se il governo si è cominciato a muovere lo stesso ministro ieri ha detto stiamo riscrivendo il metodo di calcolo delle bollette contro l'aumento dei costi delle bollette elettriche il governo in queste ore sta riscrivendo il metodo di calcolo lo ha detto stamani il ministro della transizione ecologica roberto cingolani intervistato da radio uno sui rincari del 40 per cento delle bollette di gas e luce annunciati nelle scorse ore il ministro ha spiegato che c'è da mitigare l'aumento del trimestre che c'è in tutto il mondo perché è un mercato globale e all'ottanta per cento dipende dall'aumento del gas bisogna ragionare su come è costruita una bolletta va riscritto il metodo del calcolo prosegue il ministro lo stiamo facendo proprio in queste ore questo significa andare a rivedere quelle che sono le voci di spesa che tutti noi troviamo sulle varie bollette su cui l'esecutivo intende ora intervenire non solo la spesa per la materia prima consumata in questo caso energia elettrica o gas ma anche le spese per il trasporto per la gestione del contatore gli oneri di sistema e le varie imposte ancora cronaca con le operazioni due operazioni dei carabinieri nelle ultime ore il classico motorino delle poste italiane doveva piacergli proprio tanto considerato che alla vista del giovane portalettere ha deciso di aggredirlo e fuggire con il piaggio liberty di servizio questa brutta avventura è accaduta nel pomeriggio di mercoledì a Belizzole dove un cinquantenne del paese ha minacciato e strattonato il postino per rubargli lo scooter immediata la denuncia e di conseguenza l'attivazione dei carabinieri che si sono messi subito sulle tracce del malvivente grazie alla testimonianza della vittima e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza non è servito molto per risalire all'identità del ladro che è quindi stato raggiunto a casa dalle divise dopo una rapida perquisizione è subito saldato fuori lo scooter rubato che quindi è stato riconsegnato responsabile dell'ufficio postale di Belizzole per l'uomo sono invece scattate le manette per rapina aggravata alla vista delle pattuglie dei carabinieri questo giovane cittadino straniero senza fissa dimora ha vistosamente rallentato e dal suo scooter ha gettato alcuni pacchetti nel vicino canale il tutto non è sfuggito ai militari che quindi si sono avvicinati e lo hanno fermato il fatto è avvenuto a montichiari ed effettivamente il gesto del giovane aveva l'unico obiettivo di far sparire 13 confezioni contenenti 7 grammi di cocaina subito però ritrovate dalle divise la perquisizione personale ha inoltre permesso di sequestrare 1125 euro con tutta probabilità frutto dell'attività di spaccio dopo l'arresto il pusher è stato condannato a sei mesi di reclusione e al pagamento di una multa di 800 euro il brics forum chiude come hub vaccinale e torna a fare il suo lavoro ovvero a ospitare le manifestazioni fieristiche la prima è già ai blocchi di partenza sarà il 4 5 e 6 ottobre stiamo parlando di fusa expo che è la prima fiera che torna in presenza dopo la pandemia a brescia 4 5 6 ottobre al brics forum arriva fusa expo è la prima edizione una fiera nuova ed è anche la prima fiera dopo la pandemia quindi prima fiera in presenza certo che ci vuole coraggio è sì ce ne vuole di coraggio da parte nostra organizzare da parte delle aziende crediti da parte delle istituzioni delle associazioni degli ordini cioè tutti hanno voluto fare una scommessa importante hanno fatto come si diceva prima un all in sul progetto quindi fusa expo è effettivamente la prima fiera e tra l'altro sarà una nuova edizione qui un nuovo progetto non ha uno storico in programma alla fiera di brescia e andremo a rappresentare tutto ciò che serve in termini di prodotto e di servizi alle aziende alle attività commerciali e ai professionisti è un'intuizione perché nel panorama nazionale le fiere sono prettamente specifiche e verticali in settori determinati in questo caso noi siamo trasversali parliamo a chiunque abbia un'attività quindi chiunque un'attività è invitato a venire a visitare fusa per trovare tutti quei fornitori che durante l'anno gli assistono nella quotidiana vita lavorativa siamo molto felici di essere mail sponsor e quindi essere presenti in fiera anche con un nostro stand e siamo grati agli organizzatori per averci invitati perché in questo modo potremo continuare a essere vicino al territorio sappiamo che le banche sono un servizio di pubblica utilità e quindi siamo sempre stati aperti abbiamo vissuto in questo periodo molto da vicino le difficoltà di famiglie aziende e liberi professionisti li abbiamo sempre sostenuti sia attraverso finanziamenti che attraverso moratori e sospensioni e ancora di più vogliamo essere vicini ad aziende liberi professionisti ma anche i visitatori in questo periodo in cui si colgono forti segnali di ripresa e quindi non mancherà il nostro supporto a tutti. Siamo allo sport e parliamo di Brescia perché stasera torna in campo il Brescia di Inzaghi l'appuntamento è alle 20 e 30 alle 20 con diretta stadio qui su e live in tv web e naturalmente sui nostri social ieri le parole di mister Inzaghi nel pre partita ha detto non dobbiamo montarci la testa abbiamo sofferto contro l'Alessandra soffriremo continueremo a soffrire ma poi l'importante è portare a casa la pagnotta e i tre punti. Sappiamo dell'importanza e della difficoltà della gara di domani però siamo consapevoli anche della nostra forza e cercheremo di fare per vincere ci vogliono delle grandi partite come abbiamo fatto nelle prime tre se no corre il rischio di perdere ma questo lo sappiamo. Guarda io parto da un presupposto che la cosa che mi preoccupa di più è che non dobbiamo montarci la testa nessuno perché se pensiamo di le partite di non soffrire siamo fuori pista è un campionato difficilissimo è normale andare all'Alessandra e soffrire. Noi abbiamo sofferto però abbiamo anche ribattuto colpo su colpo e insomma un'occasione dell'Alessandra era in fuorigioco non era stato detto per cui non era neanche un'occasione noi ne abbiamo avute anche però abbiamo sofferto ma soffriremo anche domani cioè se pensiamo che il Brescia va in campo e perché ha vinto le ultime partite vince tutto siamo fuori strada completamente noi dovremmo fare grande fatica e domani sarà una partita così e a Frosinone sarà così perché è un campionato molto equilibrato con due squadre secondo me soprattutto che sono Parma e Benevento magari per loro sarà un po più semplice noi per portare a casa la pagnotta i tre punti dovremmo fare sempre grande fatica e grandi prestazioni lo sappiamo è per questo che dico sempre di rimanere con i piedi per terra perché insomma dopo anch'io Brescia ha sofferto se pensiamo che non soffra soffriremo tanto speriamo il meno possibile ma dovremmo essere squadra anche nei momenti complicati e sappiamo che ci saranno adesso ci siamo abituati bene ma dobbiamo tenere questo ritmo e soprattutto devono continuare ad allenarci come stanno facendo perché lì la chiave di volta ecco queste parole di Inzaghi i precedenti di Brescia e Crotone sul nostro giornale online e live Brescia punto tv trovate nella nostra sezione sport anche una serie di curiosità legate a ogni partita del Brescia ad esempio i precedenti i precedenti degli allenatori quando si sono incontrati oppure chi è l'arbitro della partita quindi sul nostro giornale online trovate tutti gli approfondimenti noi vi facciamo vedere invece ripercorrendo nella storia quali sono stati i precedenti di Brescia e Crotone. A Montano 19 compreso l'attuale i campionati di cadeteria affrontati dal Brescia da quando è stata introdotta la regola dei tre punti a vittoria. Nella stagione 2007-2008 quella con Cosmi al comando al termine della quarta giornata le rondinelle contavano 12 punti considerando anche il recupero del terzo turno. Questo il ruolino di marcia e di quella formazione Brescia-Vicenza 2-0, Grosseto-Brescia 0-1, Brescia-Piacenza 2-0, Pisa-Brescia 0-3. La conquista di punti sarebbe andata avanti fino all'ottava giornata, 6 affermazioni più 2 segni X. Alla nona infatti sarebbe arrivato il K.O. contro il Mantova. Tuttavia il match con i Virgiliani sarebbe stato posticipato e prima i bianco-azzurri avrebbero conquistato l'intera posta in paglio anche sul campo del Lecce. La compagine di Inzaghi ha quindi la possibilità di eguagliare quella formata dai vari Tacchinardi Caracciolo, Possanzini e Viviano, tanto per citare solo qualche nome. Anche se Palassio i compagni in una statistica hanno già fatto meglio dei loro predecessori, quella relativa ai gol marcati. Venerdì sera a Rigamonti sarà di scena il Crotone, il Brescia ha sempre segnato quando ha ospitato i calabresi in cadetteria, anche nel 2013-2014 quando patì il primo e unico K.O. in nove precedenti, Bernardeschi, Pettinari e Di Cesare. La Leonessa è in serie positiva da quattro match contro il Crotone, quelli dei campionati 2015-2016 e 2018-2019. Due affermazioni fra le mura di casa, due pareggi in trasferta. Chiudiamo ricordando che la formazione di Modesto non ha ancora centrato un successo in questo campionato. L'ultimo colpo da tre punti risale quindi al 13 maggio scorso, 36esimo turno della Serie A 2020-2021. Crotone e la Sverone finì 2 a 1, successivamente ecco quattro segni X e un K.O. E parlando della storia del Brescia, ci sono 25 storie raccontate in un nuovo libro, V for Brescia di Giampaolo Lafranchi, che è stato presentato alla Latteria Molloi nei giorni scorsi. È stata una serata di grandi emozioni con tanti campioni, tra cui Andrea Calaccio, Semprini, la partecipazione di Ambra, c'era la moglie, la vedova di Vittorio Merlo. Insomma, diciamo che è stata una serata di emozioni, tante quante le trovate nel libro di Giampaolo Lafranchi. Vediamo un piccolo assaggio di questa serata che potrete seguire in diretta, scusate, integrale, qui su e-live, domenica sera, 19 settembre alle 20.50. Seguire il Brescia non è come seguire una squadra normale, il Brescia non è una squadra normale, lo sappiamo, tutti quelli che sono qua questa sera lo sanno. È un po' una dimensione dell'anima, della gioia e della sofferenza, perché il Brescia è lui, per me. Il Brescia è Andrea Calaccio, cioè chi non nasce a Brescia viene ragazzino qui, viene scoperto da un grande conoscitore di calcio e di uomini per i quali chiederei un applauso che è Gino Corioni. Cresce come se fosse venuto all'elementare, alle medie e alle superiori, cresce nel Brescia, si lega a questa maglia che è la più bella di tutte, non lo dico io, è appena stata nominata la più bella da un sondaggio dei tifosi di tutta Italia di serie B, ma è chiaramente la più bella del mondo, cioè quella che l'abbiamo scelta apposta per la copertina. Non può esistere una maglia più bella di questa che ha una V al centro del petto che ricorda il cuore, perché è una squadra che ti fa palpitare e ti fa soffrire e ti fa a volte godere e gioire. E non esistono più, o sono veramente rarissimi quelli che fanno il suo mestiere come lo fa lui, che poi per lui non è neanche un mestiere, lui è così. Quindi Gian Paolo, che ti devo dire? Lo sai dove sono e sono anche pronta ad ascoltare questo libro che va veramente ascoltato, va letto ad alta voce, ecco, molte delle storie che ci sono qua dentro neanche le conoscevo. E invece grazie a te ho potuto ascoltare, sentire delle storie di uomini, ecco. Non è un momento facile immagino Monica, è stata una pagina di grande emozione, l'emozione è anche questo, è affezionarsi a delle persone che vengono, conoscono, diventano amici, lottano per una maglia, sono brave persone innanzitutto, sono uomini veri che riescono a dimostrare tutto in campo, come diceva Andrea prima, non soltanto che sanno giocare a pallone. Tutto questo per noi era e sarà per sempre Vittorio. Quindi ti abbiamo voluto qua, questa sera, per portarci un suo saluto, il ricordo ce l'abbiamo ben presente, quello di Vittorio. Non mi aspettavo tutto questo, eh Gian Paolo. Mi hai proprio preso in contropiede stasera. Intanto, buonasera a tutti, scusate, ma veramente non mi aspettavo tutta questa, tutta questa cosa. Per me è stato davvero, mi trema il cuore. Come vedete, grandi emozioni che vi proporremo domenica sera, il 19 settembre integralmente, alle 20.50, qui sui live, come sempre anche sul nostro giornale online, in streaming e sulla nostra pagina Facebook. Ora invece parliamo di pallacanestro, perché ieri presentazione ufficiale di inizio campionato per la Germani, pallacanestro Brescia, le parole del coach. Stiamo ancora lavorando, sono abbastanza convinto che questo non è il massimo potenziale che possiamo esprimere, è il motivo per il quale, nonostante non siano arrivate delle vittorie, ma sono contento del percorso che stiamo facendo in questo momento, proprio perché sto vedendo anche a fronte di mancati allenamenti per il numero di partite che abbiamo dovuto giocare in pochi giorni, vedo la squadra crescere, vedo la squadra che ha voglia, ha desiderio di fare sempre meglio, di continuare a conoscerci, quindi siamo abbastanza lontani da quello che mi auguro sarà il massimo potenziale di questa squadra, che spero di raggiungere il prima possibile. È tutto nuovo, ma non così nuovo, io sono tornato qua a Brescia, che è un ambiente che già conoscevo, riallenerò David Moss per il settimo anno nella mia vita, riporto dalla Polonia a Limur, ritrovo Christian Burns e ritrovo Tommy La Quintana, Sasa Parrillo è rimasto e già conosceva l'ambiente, quindi abbiamo degli elementi che ci riconnettono con il passato, però l'obiettivo non vogliamo assolutamente dimenticare il passato, ma vogliamo sapere dove vogliamo andare, quindi abbiamo girato pagina, abbiamo chiaro qual è il nostro obiettivo, abbiamo chiara la strada che vogliamo percorrere, non è detto che sia la più facile, non è detto che sia la più immediata, però vedo grande entusiasmo, respiro grande entusiasmo intorno, dentro lo spogliatoio, dentro la squadra, sono felicissimo dello staff che abbiamo allestito, ma dopo una giornata come questa respiro tanto entusiasmo anche dall'amministrazione e dalla città. Mi fermo qui con questa edizione del giornale, vi ricordo che tutte le notizie continuano ad aggiornarsi sul nostro sito internet, sul nostro giornale online, è livebrescia.tv che vedete apre con il no green pass e il no lavoro, un obbligo che scatta il 15 ottobre e apertura anche del nostro giornale. Tutte le notizie sono qui, così come qui trovate la diretta del nostro canale 16197 delle digitali terrestre e con questo banner, cliccando su questo banner potete accedere ai nostri canali telegram, livebrescia news oppure livebrescia sport, se vi iscrivete poi le notizie arrivano direttamente sul vostro telefonino nel momento in cui noi le inseriamo. Grazie per essere stati con noi, per aver scelto il nostro telegiornale, se volete ci rivediamo stasera alle 19 con l'edizione trale. A tutti buon pomeriggio. Puoi rivedere questa edizione del telegiornale nella sezione e-live play del nostro sito internet o riascoltarla in versione podcast su Spotify, Apple Podcast, Spreaker e Google Podcast.